Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi porto un episodio di quella che è una serie che vorrei iniziare con costanza da far uscire il mercoledì, ovvero Pro vs Pro. Quindi partite che vado a giocare durante la settimana di allenamento contro altri Pro, partite che magari vado a giocare durante i tornei che secondo me sono significative e che vi posso mostrare in maniera tale che vi faccio vedere determinate dinamiche che secondo me sono importanti da andare a capire. Come vedete sono ufficialmente ritornato nella Tano ormai da una settimanella, questo vuol dire che in questa analisi abbiamo anche la nostra amatissima lavagna tattica, quindi senza perderci in chiacchiere direi di passare immediatamente alla schermata del game, visto che insomma la partita come al solito ce la guardiamo tutta. La partita che vi porto oggi è contro il Pro francese Manica, ex campione francese, un giocatore veramente veramente forte, in più se lo ricorderanno su Play, è passato quest'anno su Xbox, come potete vedere si presenta con una squadretta niente male, difesa classica, Mediana-Viera-Cantè, lì davanti Bappé-Ronaldo-Alessandro-Rini e il buon Eusebioschi, che io comunque continuo a non preferire perché ripeto che quest'anno non è che sia granché meta, visto che Piccoletto non ha questi movimenti ampi, ma va bene così. Gioco io in casa, quindi questo vuol dire che ho il kick-off, e io solitamente dal kick-off, come adesso andiamo a vedere, cerco sempre la solita giocata, su una delle due fasce mi chiamo immediatamente all'azione il terzino, cerco di farlo partire il più alto possibile, perché guardate, solitamente non vanno mai a coprirlo con decisione, magari non si aspettano che uno porta il terzino così in alto, qui però bravo lui a chiuder il mio cincischio un attimino, e lui con Mendy mi strappa via la palla, cerca di imbastire un'azione dalla difesa, palla lanciata subito verso Ronaldo, qui guardate come io mi ero portato Varane praticamente nel cerchio di centrocampo, addirittura nella sua metà campo, e qui è una prima piccola riflessione che voglio andare a fare con voi, perché guardate questa situazione dove lui sta attaccando, qui succede che io vado praticamente a chiudere un possibile filtrante in questa zona qua, tenendo selezionato il buon Gomez, perché filtranti sapete bene che ormai siamo arrivati a un punto in cui sono veramente stra stra OP. Una volta coperto quel filtrante, che non c'era più perché Ronaldo ormai non fronteggiava più questo lato, ma fronteggiava qui, quindi al massimo la palla poteva andare qui, io decido di uscire a cannone con Varane, lui la palla la cede a Mbappé, io ho un rapido switch, guardate come switcho tra Mendy e Varane tante tante volte, e lui poi torna indietro, lo faccio rintanare, però guardate io poi con Varane, capendo che lui con sto Kanté, guardate, ha praticamente Mbappé chiuso in questo triangolo, quindi passaggio facile e qui non ce l'ha, avrebbe lo scarico all'indietro, ma qui potrei switchare su Neymar e tentare l'anticipo, allora vedendo che lui con Kanté comunque deve in qualche modo prendere campo, dico ma sai che c'è di nuovo? Io esco a cannone con Varane, portandolo praticamente nella sua metà campo, e riuscendo a recuperare il pallone, e questo è fondamentale perché recuperando il pallone alto, spesso e volentieri riuscite ad attaccare con maggiore efficacia, perché l'avversario si trova in una situazione di difficoltà. Qui purtroppo Varane non c'è questo grosso sostegno, quindi decido di ragionare, come vedete palla su Viera, cerco di trovare lo spazio giusto, qui lui è bravo a chiudermi con Walker mentre ero di spalle e non ero una minaccia, qui gran difesa con Mendy che rientrava da una mezza scorribanda offensiva, e ricomincio quello che è il mio pattern per salire, qui cerco un passaggio che assolutamente è errato, un passaggio questo che non va affatto mai, guardate qui perché io scambio qui, Renato Viera, palla con Renato, io qua cerco un passaggio in mezzo a questi due giocatori che sono praticamente due piovre, che non passerà mai, anche per la posizione del colpo di Sanchez, non arriverà mai ai miei due giocatori, quindi qua lo scarico giusto era nuovamente su Viera, giocata safe, invece decido di forzare, lui mi recupera palla, guardate qui con Kanté, riparte con Ronaldo che serve Eusebio, qui però chiudo bene, e qui quest'azione la ricordo perché si sviluppa un pattern che soprattutto post patch è molto molto importante, quello dei filtranti, guardate in questa situazione in cui io ho appena controllato palla con Rashford, ma i miei occhi iniziano già a puntare questo Ronaldo che sta andando a correre, ok? Questi filtranti vanno provati e la tecnica è quella di dare la palla quando più o meno il giocatore è allineato al difensore, quindi più o meno quando Ronaldo raggiunge questa posizione è il momento giusto per tentare il filtrante, perché non si sa secondo quale logica, ma il pallone solitamente passa, infatti è proprio quello che accade qua, guardate io aspetto, qui sapendo che è Ronaldo e vedendo che Baran ha questo attimo di indecisione, cerco di dare la palla un attimino prima anche per evitare che vada in fuorigioco, la palla passa esattamente come avevo predetto, qui faccio un pallonetto un po' ardito, magari dite potevi fare un po' meglio, io vi spiego il perché di questa giocata, perché è arrivato in questa situazione, innanzitutto Ronaldo qui fa un pallonetto strano, non la classica animazione del pallonetto, qui è vero avrei potuto fare una finta di tiro per cercare di prendere questa porzione di campo e rientrare qui e magari calciare, avrei potuto piantarmi con una finta di tiro e fermarmi qui e magari aspettare il rimorchio di un compagno, ma mi sarei andato a giocare comunque un 3v3 improbabile a difesa schierata, oppure semplicemente avrei potuto continuare con Ronaldo a fare un passetto in più, infatti la cosa della quale più mi sono pentito è tentare poi il tiro a incrociare, invece cerco questo scavetto che per me là per là ci stava onestamente, però Pope mostriciattolo di 2 metri, cioè poi lui ci piazza subito una bella pausella che onestamente andrei a saltare. Tra l'altro domani dovrebbe anche uscire il video con le tattiche che sto utilizzando ultimamente, dopo la patch perché ho cambiato qualcosina e sono ritornato anche al 4-4-2 in linea, piuttosto che quello con i mediani. Qui da calcio d'angolo, come al solito, batto palla vicino, cerco di aprire la difesa avversaria, cerco questa imbucata verso Rashford, doppi passi classici per cercare di saltare il muro di CPU, guardate lui come difende solo con il mediano, io qui faccio una bella giocata, però purtroppo non riesco a trovare il barco giusto e probabilmente perdo un tempo di gioco e non riesco a concludere. Qui lui cerca di ripartire, però guardate come la mia pressione alta lo porta all'errore, qui un'altra bella giocata, come potete vedere nuovamente pattern tipico che vi ho detto più volte, se recuperate palla alta avete la possibilità di poter attaccare in maniera più efficace. Guardate qui che cosa succede, la mia pressione alta, sempre con Varane che addirittura esce nella sua metà campo, lo porta a fare questo errore, ok? Quindi io praticamente recupero la palla in una situazione di totale vantaggio, perché lui, se vedete anche dalla minimappa, è totalmente scoperto a un varco qui in mezzo. Quindi dico Ronaldo, mi poggio sul Rashford, controllo palla e vedo pattern di filtrante, vedo un Bappé che sta tagliando qui. E questo è assolutamente una palla telefonata, è normale che io la devo dare lì. Questa palla aspetto, come al solito, che comunque il giocatore arrivi più o meno, vedete, a una distanza tale da poi sorpassarlo solo con il passaggio. Filtrantino cronometrato e calibrato, tiro di prima, Pope si inventa un'altra parata, solo quando l'ho utilizzato io, Pope era veramente un bidone dell'umido, ma va bene così. Ancora una volta calcio d'angolo, come al solito vedete come batto vicino e cerco di giocare l'azione a scaletta per aprire spazi al centro, con molta pazienza utilizzo i due centrocampisti, perché ve l'ho detto più volte che sono fondamentali i due centrocampisti per poter andare ad apparecchiare la manovra offensiva, soprattutto con il 4-4-2 e dare palla alle due punte solamente quando è il momento giusto. Lui qui cerca la solita azione, anche lui con molta pazienza, classico stile di gioco alla Francaise. Io qua difendo male e ci prendo gol. Difendo male perché? Guardate lui come si builda l'azione. Qui io devo capire che la palla sta finendo in qualche modo a questo Ronaldo con un filtrante, ok? Invece sono troppo pigro a tenere questo Sanchez in una situazione di nulla, perché tenere Sanchez in questa posizione di campo è assolutamente inutile, perché in realtà non sta dando fastidio a nessuno, perché sto Kanté può girarsi e dare palla lì senza che sto Sanchez possa dire niente, può fare quello che vuole, può avanzare, è totalmente errata questa cosa che ho fatto. Capisco troppo tardi, vedete, quando lui ormai ha caricato il passaggio, Ronaldo ha già superato Varane, e quindi praticamente è in porta. Qui io vado a seguire Ronaldo, vedete? La cosa che avrei dovuto fare era tenere selezionato Varane in questo caso e tentare di anticipare questo passaggio con una scivolata, senza switchare su un Mendy. Tra l'altro questo switch, me lo ricordo, secondo me non era neanche così tanto voluto. Infatti poi cerco di riprendere Varane, cerco anche di far uscire il portiere per impensirirlo, ma qui è bravissimo lui con il pallonetto a purgarmi. Quindi difesa da parte mia un po' troppo allegra, come mi piace definirle a me, è lui che mi buca dopo una ventina di minuti di totale assedio da parte mia. Senza spoiler, però andrete poi a giudicare voi la partita. Io qua dal kick-off decido insomma di ripartire con tranquillità, perché fino ad ora avevo giocato bene, ero tranquillo, sapevo che davanti potevo fargli male da un momento all'altro. Quindi vedete come con pazienza cerco di sfruttare questo kick-off senza buttare via la palla. Molta calma, mi appoggio come al solito al terzino, buona qui la palla dentro. Faccio anche un bel bridge per provare a prendere campo. Questa cosa che ho fatto qua, non sono impazzito ragazzi miei. Qua intanto si è sculato, caga ha sbagliato, Ronaldo ha sbagliato lo stop. Comunque la bicicletta non è una pazzia, anzi è una cosa che funziona molto. Di fatti probabilmente arriverà un tutorial a breve sul canale. Se utilizzata con il giusto tempismo, stop bicycle, non è male, non è male, manda al vuoto l'avversario e riuscite a trovare spazio. Solo che lì io purtroppo era una posizione di campo dove assolutamente non andava tentata o sperato che Mbappé la facesse meno ampia quando invece era abbastanza telefonata che sarebbe uscita fuori dal campo. Qui ancora una volta un'ottima difesa da parte mia. Devo dire che quando vedo queste cose me ne compiaccio. bravo Riperovski. Comunque a parte gli scherzi. Guardate come porto in alto il terzino, raga, per insomma cercare di creare superiorità. Qui un'altra volta me la sono giocata con il filtrante sul Ronaldo che però è stato chiuso abilmente dal bomba run in difesa. Quindi ho preferito saggiamente di ritornare all'indietro. Qui troviamo il gol del pari ma se non erro è fuorigioco, esatto. Però guardate qua come sono stato bravo a vedere che in questa situazione io ancora prima di ricevere palla il mio cervello ha già detto Rashford, movimento automatico, andrà qua. Quindi io appena prendo palla devo andare a premiare questo inserimento. È esattamente quello che faccio. Vedete come gliela do praticamente di prima. Palla dentro, boom, il tempo giusto di controllarmi e orientarmi per evitare che il passaggio vada ad ortiche. Qui io la controllo per cercare di prendere un angolo di tiro migliore solo che purtroppo Rashford è meno forte di quello che sembra. Ahimè mi tradisce spesso e volentieri quindi prende diciamo il portiere cosa che comunque ci poteva stare avevo messo in conto di poter avere una ribattuta però purtroppo non è andata a buon fine perché il buon Renatino si trovava in fuorigioco altrimenti sarebbe stato gol del pari. Qui situazione un po' strana perché mi sono ritrovato con Semedo fuori posizione quindi saggiamente esco con Gomez a coprire la diagonale su Semedo. Semedo aveva deciso praticamente di essere corpo avulso a questa azione poi per fortuna riesco a recuperare la palla con questa difesa sempre aggressiva lo sapete raga. Qua lui è bravissimo a uscire altissimo con Mendy arrivati a questo punto anche lui sta esercitando comunque pressione abbastanza alta su di me perché si sente comunque rinvigorito dal gol dopo che comunque aveva fatto molto poco. Qui come potete vedere Enesimo Filtrante che è una meccanica che solitamente non utilizzavo tantissimo ma sto masterando adesso perché è veramente rotta se fatta con il tempo giusto. Qui palla dentro per Ronaldo la mia intenzione ve lo dico era subito fare un doppio passo che mi sarebbe messo in porta facilmente però lui è molto abile con Baran. Qui ottimo anticipo con Gomez che però sbaglia il passaggio di prima che però a riguardarlo ancora una volta per me era la giocata giusta perché magari controllandola poi col pressing suo mi sarebbe andato a recuperare il pallone. Qui guardate come ancora una volta lui cerca questa palla lunga verso Mbappé qui secondo me poteva darla dentro a Eusebio decide invece di tornare indietro palla per Viera, classiche, giocate aspetta di fare l'ultima azione al 45esimo che sappiamo che insomma è il minuto della magia non ve lo devo stare a dire io infatti guardate come tiene palla cerca di offendere all'ultimo secondo però io sono bravissimo con Baran qui a evitare guai peggiori e a chiudere la giocata prima che arrivasse a Mbappé che sarebbero stati sicuramente guai peggiori quindi termina il primo tempo sul risultato di 1-0 per il buon Johan Simon alias Manica il quale ha fatto un unico tiro in porta però è stato quell'unico goal che gli ha permesso di essere in vantaggio kick-off per lui cerco di recuperare subito palla alta qui ci vado veramente tanto vicino con Mbappé lui qua fa questo passaggio su Eusebio che però era abbastanza telefonato il buon Semedio va a recuperare qui mi vado a cercare quest'1-2 tra Ronaldo e Mbappé perché avevo visto un mezzo per Tujol lì ma non funziona gran recupero qua alto con Viera e con pazienza giustamente con la sua difesa schierata provo a tornare indietro cercare di aprirla buona qua una finta anche un po' fine a se stessa però ci può stare un'altra finta con Viera che poteva essere evitata però ogni tanto anche per mandare un po' in confusione l'avversario oltre che noi stessi ci sta qui sfrutto la sovrapposizione di Mendy per liberare spazio su Neymar qui mi gioco un elastico palla dentro guardate ancora come con la bicicletta vado a prendermi il campo poi vi ripeto vi spiegherò bene quali sono le applicazioni di questa cosa con varie clip anche presi da partite contro Pro soprattutto però purtroppo il tiro di Ronaldo di sinistro al volo è un po' deboluccio perché stranamente dopo sta bicicletta spesso e volentieri il tiro esce a mezzo marcio soprattutto con il piede debole guardate qua come con Renato Sanchez recupera ancora palla ottimamente questo mi permette di poter imbastire un'azione di contropiede come al solito da una buona difesa nascono sempre le migliori azioni di attacco qui Viera non fa il filtrante che avevo in mente io per Ronaldo è un po' cortino però ci troviamo comunque in una situazione ancora favorevole io cerco assolutamente di tirare tutti gli uomini che lui ha al centro fuori in maniera tale che io appunto possa andare ad aggredire di quello spazio guardate qui con quanta pazienza aspetto proprio il momento giusto prima di cercare l'aggressione definitiva qui palla per Neymar buono il bridge però è bravo lui a chiudermi però avete visto prima di cercare l'imbucata giusta quanto tempo ho temporeggiato fondamentale fondamentale questo ve l'ho detto anche nel tutorial per l'attacco la cosiddetta azione a scaletta coinvolgere un po' tutti quelli che sono i giocatori di movimento tranne i difensori è fondamentale per rompere il muro di CPU e vedete lui come è bravissimo a difendere solo col mediano praticamente là dietro non si passa raga io qua invece continuo la mia difesa molto aggressiva come potete vedere molto alto con Renato qui per un pelo non la recupero qui Vieira fa il lavoro sporco allontanando la minaccia e con Renato la riesco a chiudere questo è interessante da farvi vedere perché come vi dico bisogna alle volte difendere con due giocatori nel senso che switchate talmente rapido che praticamente voi andate a rompere le palle all'avversario con due giocatori guardate io qui come porto Vieira in pressione porto Vieira in pressione porto Vieira in pressione una volta che Vieira ha finito di fare il suo lavoro switch immediatamente su Renato Renato va in pressione e recupera palla quindi praticamente nell'arco di 5 secondi ho portato in pressione due giocatori che alla fine mi hanno permesso di recuperare palla qui avevo visto un bel pertugio ma purtroppo Ronaldo fa prima mezzo movimento da andare e poi torna indietro per evitare di finire in fuorigioco quindi mi ha mezzo isolato parla poi per Alessandrini con il buon Manica che cerca di insomma trovare il varco giusto per portarsi magari sul doppio vantaggio vi ricordo che questo era un best of 2 ma questa secondo me è la partita più significativa poi vi spoilererò come è finito il best of 2 totale qui io cerco ancora una volta di mandare il giocatore in in contropiede con il filtrante perché anche se voi lo fate partire eppure non gliela date è un'ottima giocata perché toglie pressione al vostro portatore di palla perché lui deve iniziare a scappare indietro con il difensore centrale quindi io vi consiglio di far partire i vostri attaccanti anche se poi effettivamente la palla non gliela date tanto quest'anno rientrano dal fuorigioco qui lui è un po' sotto pressione cerca questo lancio per uscire dal mio pressing ma purtroppo non gli riesce io qua con questo elastico guadagno un po' di campo palla poi per Rashford guardate come cerco di mandare a vuoto la pressione dei suoi giocatori qui ci riesco finalmente manda a vuoto il suo centrocampo questo Ronaldo ha un'agilità pazzesca palla dentro poi per Rashford qui bel gol come vi ho fatto vedere con il tutorial del one touch questo anche per insomma testimoniare che cagate non ve ne dico sono cose che uso abitualmente io e che funzionano guardate qua con quanta pazienza gli sono riuscito semplicemente con il movimento con l'analogico praticamente a portare questi tre giocatori sì sulla linea di passaggio ma Varane è un difensore centrale questo vuol dire che il suo posto in realtà era qui a marcare in raddoppio questo Rashford invece io l'ho portato fuori posizione Varane non era più una minaccia sto Rashford era libero di poter colpire è proprio quello che succede difatti palla su Viera come abbiamo visto io vedo che c'è il buco al centro e conclusione di prima dopo la finta rete tra l'altro mezzo perplesso ma che era fuori gioco ma se mi sembrava tipo mezzo fuori gioco allora il passaggio no no mi sa di no mi sa che è solamente un effetto effetto ottico anche se gli alberi sono esotici quest'anno lo sappiamo quindi uno a uno trovo finalmente il gol del pari dopo una partita condotta secondo me in maniera abbastanza impeccabile voglio dire riusciamo finalmente riusciamo finalmente a sfondare qui palla per Kylian lui cerca di sfruttare questo kickoff come meglio può per un pelo non gli usciva la palla sulla linea di fondo qui con Ronaldo fino a quando era di spalle ho cercato di seguirlo qui sono stato fortunato e vi dico perché non tanto per questa giocata qui perché io qua commetto un errore ok ve lo faccio vedere io qui non dovevo tenere sto Mendy volevo switchare su Sanchez per mettermi qua in mezzo invece prendendo Varane gli ho creato praticamente un buco qua perché Varane doveva stare qua quindi sto Ronaldo era libero di attaccare la mia fortuna non è stata quel rimpallo in aria perché là ormai la situazione era andata è che sto Renato ci ho fatto un mezzo miracolo perché l'ho selezionato e lui ha sporcato sta traiettoria del passaggio ma l'avevo selezionare prima perché se l'avessi selezionato prima la palla la intercettavo in maniera molto più pulita e Varane non avrebbe fatto quel buco lì al centro che per poco non gli consentiva di trovare la rete del 2 a 1 quindi occhio sempre agli switch ragazzi sono fondamentali lo sapete ve lo dico sempre che bisogna switchare sia con l'1 che con l'analogico ma come vedete l'imprecisione può sempre capitare quindi non vi scoraggiate se le prime volte non sarete super precisi qui onestamente una skill che potevo tranquillamente evitare lui riparte in contropiede con Cristiano Ronaldo come al solito classica azione a scaletta a cercare di liberare il giocatore al centro che si era liberato il buon Alessandrini però non gli viene servita palla con i tempi giusti io con Semedo recupero lì al centro manca ormai poco ed eccolo qua qui era un filtrante che qualora fosse passato avrebbe messo in porta Ronaldo come vi ho fatto vedere anche prima peccato perché sarebbe valso la rete del 2 a 1 qui lui molto bravo a temporeggiare con questo Ronaldo però io qui faccio veramente un bel intervento con Gomez senza farmi abbindolare dal suo Eusebio e provo a ripartire per quella che è l'ultima azione della partita cerco di sfruttare un po' il momentum del novantesimo vedo Ronaldo che parte cerco di dargli la cosa del filtrante ma Renato non è dello stesso opinione che però recupera palla palla per Viran ancora per Renato con pazienza ragazzi palla per Mendy in fascia Neymar palla per Mbappé buono il passaggio per Ronaldo guardate qua palla dentro per Rashford ancora per Ronaldo 2 a 1 con una massive composure ce la siamo portata a casa sfruttando un po' di momentum del novantesimo ma soprattutto con la santa pazienza con la classica azione che vi ho fatto vedere mille volte e quindi bella partita devo dire bella partita come possiamo vedere dalle statistiche devo dire giocata davvero bene 6 tiri per me tutti in porta un tiro per lui quello del golo su quella mia cagata buona percentuale passaggi è buono pure il possesso palla quindi sono molto molto soddisfatto di come mi sono andato a giocare questa partita e è nulla ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere se insomma vi fa piacere avere questo tipo di contenuto il mercoledì una volta a settimana fatemi sapere che ne pensate della partita vi ricordo di lasciare un like oltre ad un commento di iscrivervi al canale che cresciamo a bomba e sono stracontento vi aspetto ogni giorno in live sulla piattaforma Viola lo sapete trovate tutte le info in descrizione ah una cosa ci tengo anche a sapere se preferite che la partita la analizzo tutta o la taglio avevo provato a tagliarla ma veniva veramente un video stream in sito e non si andavano ad analizzare anche delle fasi passive che secondo me sono fondamentali quindi fatemi sapere anche questa cosa è nulla ragazzi io vi saluto ciao ciao